Ciao a tutti e bentornati in cucina con Agnese. Oggi prepareremo i peperoni corno ripieni. Da un recente viaggio in Basilicata ho avuto la fortuna di prendere direttamente alla campagna dei peperoni corno e ho deciso di fare questa ricetta e condividerla insieme a voi. Gli ingredienti che ci serviranno questa ricetta sono dei peperoni corno, alcuni più piccoli e alcuni più lunghi. Vi farò vedere dopo. Rossi. Ci serviranno 600 g di macinato, io ho scelto un macinato misto fra tagchino e maiale. 130 g di mollica di pane che ho messo a bagno da circa 10 minuti con del latte. 130 g di scamorza, un uovo, 10 olive denocciolate, quelle nere ho scelto e le ho tagliate a fettine. Ci serviranno infine olio, sale e pepe. La pentola è già sui fornelli che aspetta i peperoni e allora mettiamoci a cucinare. Come prima cosa dobbiamo andare a pulire i nostri peperoni rimuovendo la calotta superiore e eliminando la parte dei semi e quanti più semi bianchi che rimangono all'interno. Ne ho lasciato uno da parte per farvi vedere come si fa. Tagliate la calotta superiore. Con il coltellino girate tutto attorno piano piano cercando di non rompere i bordi. Inserite le due dita, tirate piano piano e battete con un dito. Se dovesse rimanere qualche parte bianca, come in questo caso, va aiutate piano piano con un coltellino. Affilato mi raccomando e senza tagliarvi. I nostri peperoni sono pronti, mettiamoli un attimo da parte. Ho strizzato la mollica del panno e dal latte, l'ho aggiunta direttamente alla carne trinta. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Anche due pizzichi. Pepe. La scamorza, se volete, aggiungetela anche a fumicata, a vostro gusto. Io l'ho scelta semplice, questa volta. Tagliate a pezzettini piccolini. Aggiungetela alla carne trinta. Le olive. E infine l'uovo. Anche questo, proveniente direttamente dalle galline del sud. Ora, male pulite, impastiamo bene tutto. Se il composto dovesse risultare troppo asciutto, aggiungete un altro uovo. Io preferisco comunque lasciarlo abbastanza umido il composto, così che si rassodi e cuocia poi lentamente in pentola. Ma, prima impastiamo. Eccoci qui. Il composto è ben avancamato. Proprio come mi piace a me. E ora, vimpiamo i nostri peperoni. Potete aiutarvi con un cucchiaino, naturalmente. Ma, io per comodità, oramai sono abituata, mi trovo bene anche solo con le mani. Prelevate poca quantità alla volta. Prendete il vostro peperone e sfingete leggermente il composto verso il basso. Riempite fino all'orlo i vostri peperoni. State attenti a non premere troppo e a non romperli lateralmente. Dovesse accadere, pazienza, saranno buoni lo stesso. Adagiateli in un piatto e continuate così a riempire tutti i vostri peperoni. Eccoci qui. Ho aggiunto un filo d'olio sul fondo della pentola. Appena appena abbiamo disposto i nostri peperoni ripieni. Ultimiamo con un filo d'olio sopra. Un pizzico di sale tutto attorno, che aiuterà i nostri peperoni ad appassirsi bene. E ora portiamo la nostra pentola sul fuoco. Portiamo il gas a minimo. Copriamo con il coperchio e cuociamo per una mezz'oretta. E a metà cottura li giriamo. Ci vediamo dopo per il risultato. E io ho una fame. Anche voi, mi raccomando, tra un quarto d'ora circa, ricordatevi di girare i vostri peperoni. E ultimare così la cottura. Eccoci qui. I nostri peperoni hanno cotto una mezz'oretta, come vi dicevo, e girati a metà cottura. Potete cuocerli anche in forno a 180 gradi, sempre per una mezz'oretta. E noi siamo pronti ad andare in tavola. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, mettete un bel like al video. Vi siete iscritti al canale? Siamo arrivati a 160 ricette pronte per voi. E ricordatevi che sul sito di CucinaConAgnese.it trovate la lista degli ingredienti e il procedimento se li volete fare anche voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richiesti e suggerimenti a www.cucinaconagnese.it www.cucinaconagnese.it